Donne sempre più avanti con la salute, questo è il motto che accompagnerà la giornata dell'8 marzo nel consultorio di Viale Regina Margherita. Dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 verranno effettuate infatti delle visite senologiche e ginecologiche gratuite, un evento realizzato grazie all'impegno dell'Associazione di Volontariato Progetto Luna, insieme all'ASP di Caltanissetta, l'UOC di Chirurgia, l'UOS di Senologia e la collaborazione della Direzione del Distretto Sanitario Nisseno e della Caritas Sanitaria di San Cataldo. Anche quest'anno, quindi l'8 marzo, ci saranno le visite di senologiche gratuite per le donne che vogliono rafferire a questo servizio e sarà offerta appunto dai medici che afferiscono l'unità operativa semplice di senologia in capo a questa unità operativa, quindi con i responsabili, il dottor Giovanni Dippo, coadivati anche da Giovanni Di Lorenzo e Carmelo Venti. E' ovvio che in questo percorso l'unità operativa entra in gioco sia perché mette a disposizione ovviamente i medici, ma che chiaramente tutti gli altri medici partecipano in maniera meno visibile perché chiaramente dovranno sopperire alle attività lasciate dai medici. Questa è la sesta edizione di queste giornate senologiche dedicate proprio alle donne che non rientrano negli screening, quindi diciamo che osserviamo delle donne che vanno dai 25 ai 40 anni ed è in effetti in questa fascia che bisogna sempre più aumentare quella che è la coscienza della prevenzione perché in effetti per i tumori della mammella si guarisce, ma si guarisce se viene preso in tempo, quindi la prevenzione secondaria, quella che le dice mammografia, ecografia e visita, sono di fondamentale importanza. In questo momento noi faremo le visite gratuite e senologiche e o è necessario poi continueremo con gli accertamenti strumentali. Il ruolo è quello di sensibilizzare le donne a conoscere il proprio seno nell'ambito senologico, ma quest'anno abbiamo aggiunto anche le visite ginecologiche perché abbiamo visto che nel progetto pilota che abbiamo portato nelle scuole al liceo scientifico le donne chiedevano, volevano sapere molto in merito. Sappiamo che da 25 ai 64 anni la donna può fare una visita a un papi test, però molte donne sfuggono a questi controlli. Noi in questa giornata li vogliamo sensibilizzare a fare prevenzione perché è una visita delicata, però va fatta perché la diagnosi precoce salva la vita.